Siamo con il mister Alessi della Cairese, una bella vittoria alla prima uscita, anche se in Coppa Italia, già hai avuto modo di poter vedere i tuoi ragazzi, hanno fatto bene, una bella partita giocata a ritmi alti. Assolutamente sì, sono molto soddisfatto perché dal punto di vista tattico, avendo cambiato tanti interpreti, essere già a questo punto mi fa felice, ma sono arrivati ragazzi intelligenti, di facile apprendimento, credo che si potrà migliorare tanto, la strada è quella giusta. Ho visto degli ottimi 2003-2004 come Franzino in campo e mi è piaciuto tanto, Briano, il portiere anche 2003, e quindi ho visto che hai lasciato gli uomini in banchina, quelli titolari, diciamo quelli più grandi, e hai fatto giocare il primo tempo più questi ragazzi che hanno fatto bene. Assolutamente, no, i titolari in questa squadra sono anche loro che non ce ne sono, la squadra è stata creata per giocarsi il posto tutti quanti, di settimana in settimana, e credo di avere a disposizione un parco giovani veramente importante, anche quelli che oggi non sono stati chiamati in causa sicuramente dimostreranno il loro potenziale nell'arco della Coppa e del campionato, perché sono tutti veramente di valore. Ecco, ero curioso di vedere questa squadra che avete cambiato tanto, avete ringiovanito tanto, ma ho visto un'ottima cairese, quindi un buon lavoro fatto dal direttore sportivo. Assolutamente, credo che Giribone abbia sostenuto i mesi di maggio, giugno, luglio nel miglior modo, mi ha dato la disposizione dei giovani, ma tutti di valore come ti stavo dicendo prima, e quindi ora staranno ai staff a cercare di fare il meglio possibile. Vai bene, Ministro, ti ringrazio. Grazie a voi.